Buongiorno amici di Mondo Fuzza, un saluto da Valerio Di Prospero e Gianfranco Marceddu, i gols aprili a Cosmo Sardia, Under 21, girone C, arriva in questo momento il fischio, parte la gara, trova Pallotta, Pallotta con il tacco, non riesce a superare, Todisco, Todisco, la traversa, palla ancora buona e c'è il gol di Di Iorio, di testa, per Di Iorio, ancora Di Iorio con la punta, per i giocatori in maglia rossa, la palla che termina in rete dopo la deviazione di Todisco, e allora 1-1, la verticalizzazione direttamente per Todisco, arriva il 2-1, bravissimo qui, Todisco a stoppare il pallone dalla rimessa laterale, cerca direttamente la pietra e la conclusione, arriva il gol di La Pietra ed è dunque 2-2, qui Di Iorio recupera la palla, poi Daiello, complice una deviazione, trova il gol del 3-2, ancora Bucce, ora Alotta, va via bene Alotta, la prova con la punta destra, qui sbaglia tutto Bindi, allora Cocuzella può andare da solo, Cocuzella, e Bindi salva tutto dopo la parata di Poca Terra, poi Bucce per Alotta, ancora Poca Terra, calcio d'angolo per Ligols con Cocuzella, che trova il gol, può fare tutto da solo la pietra che ne è fermato da Bucce, ancora Bucce, fermato a sua volta, allora la pietra, bravo qui a Enderle, poi Bindi la spara altissima, la pietra sul pallone per ridurre la distanza, ora il tiro di La Pietra e il gol, dunque 4-3, Bucce, poi la verticalizzazione per Luciano, ancora Luciano, il tiro di Luciano e la parata di Poca Terra, parte ora La Pietra ed è così, si trova il gol con la deviazione fondamentale di Pallotta, dunque il pareggio del Cosmo Sardia, ora Todisco, il gol di Todisco, 5-4, ancora si lotta sul pallone, poi Cocuzella riesce ad andare via Cocuzella, 6-4 di forza, il numero 14, doppio play in campo per l'Egolz, ora Todisco, cerca Bucce, che sfiora soltanto il pallone, con questa comunque ha rimesso laterale, allora la pietra, ancora il numero 4, trova Bindi, il palo di Bindi, gli soffia il pallone, ancora la pietra, Torre fa buona guardia, poi prova a partire, balla al piede, la Torre combina un pasticcio, a Lotta sul pallone, a Lotta, poi Cocuzella, ancora la pietra poi, le finte di la pietra, il tiro, è bravo, Torre, 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 cerca direttamente la conclusione, palla sulla traversa, parte ora la pietra, la conclusione, Torre ci mette la mano, Spinaci, Spinaci, mezzo a 3, Pallotta, poi ancora Marra, Marra, a Lotta, a Lotta, la parata e poi il gol però di a Lotta, con la complicità del palo, arriva il gol dello 7-4, Golino cerca Pallotta, mette giù bene il pallone, Pallotta, arriva Golino, e Torre blocca con i piedi la sfera, poca terra, Broggi, Broggi e Todisco salva sulla linea, Todisco non trova Marra e arriva ora il triplice fischio del signor Madeo, finisce qui i gols aprilia 7, Cosmo a Sardia 4, un saluto da Valerio Di Prospero e Gianfranco Marcello. Grazie a tutti.